Cari amici eccoci qui in bella presenza Allora ci ritroviamo un pochino di tempo rispetto all'ultimo video Vi ringrazio per la visibilità che mi date Con la vostra attenzione nei miei confronti Con questo video volevo parlare praticamente Dal torneo del Baskin che è il basket sociale ed inclusivo Che si darà questa domenica 28 di novembre 2021 Presso il Palazzo Sport di Andrea Torneo a tre squadre Andrea Foggia e Strani Torneo che prenderà il via alle ore 9 di mattina ovviamente Due partite a squadra con quattro tempi da sei minuti Prima partita Andrea Trani Seconda Trani Foggia Terza Foggia Andrea Ovviamente questo è un torneo che poi porterà a finale Fase finale interregionale Ovviamente in un'altra location Chi vince più partite e fa più punti Va a questa fase finale interregionale Faccio questo video anche perché diciamo che Faccio parte comunque della squadra di Trani del Baskin Che ricordiamo è un connubio Tra Fortitudo Trani, Associazione e Genitori Trani Senza dimenticare che il Baskin è ovviamente inclusivo Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci giocano sia Magari atleti che hanno giocato anche a basket E che a livello motorio sanno muoversi in maniera autonoma Che chi purtroppo ovviamente no? Diciamo non perché l'ha voluta la persona si ritrova su una carrossella O a problemi a livello motorio Quindi cari amici Sostenete il mio canale E soprattutto Viva il basket Viva il Baskin Viva la socializzazione e l'inclusione Noi ci vediamo alla prossima occasione In un prossimo video Buona, hasta la vista Ciao